Una serata di musica, di giovani talenti che suonano a favore del Fondo Diamo Lavoro, ma soprattutto giovani che aiutano i giovani, i ragazzi più sfortunati che hanno difficoltà nelle famiglie con il proprio lavoro. Questo è un tipico esempio di genialità italiana, che riesce ad incoraggiare gente ad esprimere il proprio talento, a perfezionare la propria competenza e a farlo in un modo tale da promuovere non solo se stesso, ma anche sostenere i programmi di reinserimento nel lavoro. Io trovo che sia un'idea molto interessante e come dice che ogni ambito può trovare una strada da percorrere per essere capace di far esprimere le persone e aiutare con la propria capacità espressiva a promuovere le attività, il lavoro, il bene comune. Grazie.